Ti è piaciuta la nostra giornata al contrario nel mondo al contrario? Allora commenta qui sotto e dici quanti anni hai se conti all'indietro! Cosa posso prendere in questo negozio? Non è della mia taglia! Ed ecco la cliente abituale! Bel telefono! Lo ruberò a quel ladro! Adesso è mio! Fermati! Hai dimenticato di prendere la mia borsa! Ecco! Grazie ladro! Stop! Non vedete? Il pavimento è asciutto! Camminate sul lato bagnato per favore! Una speciale mascherina all'opposto con facile accesso per cibo e bevande Che persona dovrei scegliere? La selezione di persone in questo negozio è piuttosto ridotta! Immagino che prenderò questa ragazza! Il suo corpo è perfetto per il mio stile! La proverò! Oh c'è la fila! Chi è l'ultimo? Credo di essere io! Togli le cuffie! Ora puoi sentire di nuovo! Prego! Chi è l'ultimo della fila? Questo ragazzo è appena arrivato! Sembra che la prima persona in fila non abbia più bisogno del medico! Questa è una rapina! Oh una videocamera! Devo togliermi la maschera! Ora sono pronto per rapinare questa banca! Questa è una rapina! Datemi soldi! Ma non abbiamo soldi signore! Bene ho un po' io! Ecco dei soldi per voi! Prendeteli tutti! Veloci! Oh grazie signore! Polizia! Nessuno si muova! Siete in arresto! Venite con me! Scusi per l'inconveniente signore! Penso che resterò qui a lavorare! Dico davvero! Le persone sono reali! Non ci credo! È tutto inventato! Guarda le prove! I cerchi nel grano! Chi pensi li abbia fatti eh? Sono loro! Gli umani sono reali! Oddio! Ciao alieni! Ah! Un umano! Ssh! Sono io! Susy dorme sul soffitto per sognare tra le nuvole! Justin! Dammi dell'acqua per favore! Grazie! Pronto? Vorrei assumere degli attori per la festa di compleanno di mio figlio! Venite! Vi aspettiamo! Ciao Chad! Buon compleanno! Ciao eroi! Vi stavo aspettando! Preparerò uno spettacolo per voi! Ripetete insieme a me! Ora facciamo una sfida! È così divertente! Adoro giocare con gli attori! Adesso facciamo un selfie! Il tempo è scaduto! Grazie per essere venuti! Ecco i vostri soldi! Ciao! Solo altri 5 minuti! Mamma! La prima cosa che faccio al mattino è sporcarmi i denti! Oh! Broccoli! Perfetti per le mie gengive! I dentisti consigliano di sporcarsi i denti per due minuti al mattino e alla sera! Fatto! Posso andare! Pronto? Dottore? Mi sento benissimo! Ma è stato meglio! Ho ricevuto la tua chiamata! Cosa c'è che non va? Ho giocato ai videogiochi tutto il giorno e ora mi sento benissimo! Fantastico! Solo un piccolo taglio e ti sentirei di nuovo male! Grazie, dottore! Mi hai davvero aiutato! Un appuntamento tra due ore! Ok, sarò lì tra dieci minuti! Devo cambiarmi per l'appuntamento! Metterò i miei vestiti comodi! E toglierò tutto il trucco! Adesso sono disordinata! Proprio come volevo! Una nuova borsa! Non esiste! Prendo la borsa di carta! Primo round! Ashley inizia con una serie di colpi! Ma Sue manda la sua rivale KO in questo preciso momento! Sì! Vittoria! Sue si vince questo round ma Ashley riceve il trofeo! Ottimo lavoro! Congratulazioni campionessa! Hai perso! Ragazzi, le vostre borse sembrano così pesanti! Lasciate che vi aiuti! Datemi le vostre borse, andiamo! Wow, come sono pesanti! Sbrigati nonna! Non fermarti per strada! Ciao a tutti! Questa è la prima volta che mi esibisco! Sono super nervoso! Questo caffè è degli avventori davvero carini! Canteranno e balleranno! Prova, prova! Ok, il microfono funziona! Inizierò a cenare! Ragazzi, siete fantastici! Bodyguard? Benvenuti nel nostro club! Siete tutti in regola! Fermati, non puoi entrare! Non lo permetterò! Tu invece puoi andare! No, signorina, non provarci nemmeno! Balla verso casa tua! Siamo qui riuniti oggi per unire questi due sacerdoti in un santo matrimonio! Pastore Alex, vuoi prendere Susi come tua sposa? Lo voglio! Pastore Susi? Lo voglio! Potete scambiarvi gli anelli! Potete scambiarvi gli anelli! Per il potere conferitemi dal mio vestito! Ora vi dichiaro marito e moglie! Brr, che freddo! Le mie mani sono gelide! Le metto in frigo! Ah, che bello! Che inverno caldo! Il momento perfetto per abbronzarsi! Mi serve più crema solare! Devo proteggere la mia pelle! Fa così freddo! Come si riscaldano le persone in estate! Sto congelando! Di nuovo la sveglia! È ora di alzarsi! Oh no! Sono già in ritardo! Devo rallentare! Mi cambierò per andare al lavoro! Devo essere professionale in ufficio! Oh oh! Ho quasi finito il tempo! Mi metterò il pigiama ancora più lentamente! Non posso dimenticare di lasciare la porta aperta! Adesso posso uscire dalla finestra! È ora di lavorare! E voi ragazzi, iscrivetevi al nostro canale! Mettete like a questo video e fate clic sulla campanella! Non perdetevi nessun nuovo esilarante video di WooHoo! Ciao! Ciao! Ciao!